E se sulla questione depuratore consortile si prospettasse il commissariamento, è un'ipotesi che potrebbe verificarsi. Dopo il lungo iter burocratico e politico avviato ad Acireale per risolvere il nodo che ha riguardato l'individuazione del sito e sul nulla di fatto consumato nell'aula consigliare durante il precedente mandato, il comune potrebbe perdere l'autonomia amministrativa sulla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue che dovrebbe servire 10 comuni per un totale di circa 160.000 abitanti. Perdita del finanziamento, rischio sanzioni europee, incapacità di trovare il sito sono le variabili di questo lungo iter. Fallita l'opzione Rocca di Volano nella frazione accese di Santa Maria delle Grazie perché l'aria rientra nel parco archeologico perimetrato dalla regione siciliana rispolverata dal sindaco Roberto Barbagallo a pochi giorni dal suo insediamento l'opzione di agganciarsi alla rete di Pantano d'Arci sono ancora troppe le incognite che riguardano la soluzione al problema depuratore, un problema che riguarda soprattutto un'emergenza ambientale perché l'assenza di un adeguato sistema di rete fognaria riguarda soprattutto l'ambiente del rispetto del territorio, una questione che non si può più rimandare con o senza commissario.